allora io volevo parlarvi di un problema che è quello relativo a un disturbo che molte volte la popolazione ha è la stitichezza se permettete è un settore nel quale io ho spaziato si ho capito questo microfono che le chi lo vedete ecco non posso toccarlo perché mi fa gli occhi che mi fa dalle orbite allora dicevamo che uno dei fenomeni della nostra popolazione è la stitichezza però c'è un detto latino c'è un detto latino esigenzia ventris dilazione non patitur tradotto in italiano le esigenze della panza non ammettono dilazioni cioè quando uno ha una ispirazione bene sarebbe che questa ispirazione fosse portata però però oggi siamo in un momento particolare come fa la commessa che sta servendo un cliente e ha l'ispirazione lascia stare cliente o trattiene il disturbo no non disturbo il piacere che avrebbe nel liberarsi di certe materie che insomma vanno eliminate e chi sta insegnando chi sta facendo determinati lavori come il galaxy in questo momento potrebbe interrompere la trasmissione no e allora c'è la repressione dello stimolo la repressione dello stimolo va contro il detto latino esigenzia ventris dilazione non patitur per cui quando le persone hanno determinate ispirazioni come le ciao mi o altre cose è opportuno che queste esigenti vengano esaudite e non represse ma c'avevo un altro detto che mi imparca di coppa pela e magna non so se io l'ho trattato o non l'ho trattato ma allora si addice un po' anche questo coppa pela e magna vuol dire prendere il galletto è un detto che si addice al sottoscritto e che si dovrebbe essere usato anche da molte persone di mia conoscenza per esempio dagli impiegati pubblici o da altre persone o da certi sindaci e non faccio riferimento alcuno per cui io dico che chi ha determinate esigenze è opportuno che pensi a seguire quelli che sono gli stimoli che vengono dal corpo se no i farmacisti i guadagna e bisogna chi venda lassativi pace e bene con riserva grazie a tutti